Titanca, Social+, Mr. Preno e CampingVillage.travel Anche quest'anno il gruppo Titanca è presente al TTG di Rimini per la sessantesima edizione. Da oltre 23 anni ci occupiamo di marketing e vendita diretta per strutture ricettive in tutta Italia. Abbiamo realizzato innumerevoli strumenti con un unico obiettivo, vendere almeno una camera in più dell'anno precedente e lo facciamo con cuore e passione. È stato veramente emozionante vedere la vostra grandissima presenza sia allo stand di Tantca che allo stand CampingVillage. Grazie ancora a tutti e ci vediamo domani per l'ultimo giorno di sera. Vi aspetto! Grazie a tutti!